un caro saluto a tutti voi da franza allora cominciamo questo approfondimento dal titolo erbario astrologico e magia naturale curato da me e quindi da the sun astrology cominceremo degli approfondimenti prossimamente ne farò altri dove andremo a indirizzarci verso la ricerca delle fonti delle bibliografie più interessanti quindi andremo proprio a a ragionare su certe fonti legate al mondo della magia naturale connessa sempre all'astrologia per in qualche modo comprendere quanto l'astrologia sia una disciplina molto ampia molto molto variegata e noteremo che cosa che c'è una una parte dell'astrologia che diciamo oggi è poco consultata e poco studiata che invece può fornirci delle interessanti informazioni quindi è una parte della cosiddetta astrologia ermetica dove abbiamo veramente tante nozioni tante informazioni che ci permettono di guardare il linguaggio astrologico in modo un po più amplificato anche quindi con una visione ermetica anche magica per comprendere l'importanza del linguaggio astrologico che che questo linguaggio appunto aveva nei confronti dei nostri antenati quindi l'astrologia era applicata in tempi molto remoti non come la applichiamo noi oggi o meglio non solo come la applichiamo noi oggi ma c'era un'applicazione anche molto esoterica ermetica basata su una serie di teorie e ovviamente collocata in un periodo storico preciso dove quindi all'astrologia veniva anche dedicata una parte importante per esempio relativa alla cura alla medicina alla cura delle persone è importante iniziare questo approfondimento intanto da un disclaimer cioè da un'avvertenza che è doverosa qui scrivo che le informazioni in questo approfondimento sono state raccolte da manoscritti e testi che riportano fonti antiche e intendono testimoniare a livello nozionistico esclusivamente un contenuto culturale quindi le indicazioni concernenti preparazioni naturali erboristiche galeniche sono testimonianze e non indicazioni di salute le informazioni che saranno presentate non devono essere considerate complete o esaustive l'uso delle erbe per scopo curativo è preposto da figure professionali quali medici naturopati ed erboristi la presentazione che segue dunque a scopo esclusivamente culturale e di informazione dove appunto saranno riportate fonti di testi antichi e testi moderni indicati anche poi in bibliografia che vedremo alla fine di questo approfondimento questo disclaimer è importante per per dirvi che l'approfondimento che faccio è un approfondimento che diciamo ha uno scopo di curiosità cioè di approfondire alcune fonti interessanti e non ha lo scopo di dare informazioni curative o mediche ma di riportare esclusivamente testimonianze ancora oggi in questi in questi tempi moderni c'è l'uso delle erbe per scopi anche medici e curativi e in questo caso però ovviamente per scopi curativi oggi dobbiamo rivolgerci a figure professionali preposte che conoscono bene questa materia queste droghe per essere poi usate eventualmente in in qualche tipo di patologia per fare questo è ovvio che bisogna rivolgersi a figure abilitate quali appunto medici erboristi e naturopati quindi la presentazione che segue è esclusivamente una ricerca che io ho fatto a livello di fonti una ricerca che faccio in qualità di astrologo quindi in quali in qualità di studioso di astrologia mi occupo anche di ricerca delle fonti e quindi esclusivamente vi riporto varie nozioni che ho raccolto in questo caso in un argomento specifico che quello legato diciamo all'astrologia naturale all'applicazione della della astrologia per scopi anche curativi e anche magici come appunto vedremo è sicuramente un inizio quindi è diciamo difficile sintetizzare l'argomento in una in un solo approfondimento video però è un incipit cioè inizieremo sicuramente da questo approfondimento che poi sarà in qualche modo quello che darà il via ad ulteriori approfondimenti dove ci concentreremo meglio su specifici specifiche questioni e specifiche fonti che sono veramente interessanti molto curiose e che possono in qualche modo ampliare amplificare anche le conoscenze astrologiche sia per gli appassionati ma anche per gli astrologi stessi perché la parte dell'astrologia ermetica è oggi non consultata non studiata dai più eppure in questa parte dello dello scibile che è una grande parte ci sono veramente tante nozioni tante informazioni che aiuterebbero anche l'astrologo ad amplificare sul piano teorico le informazioni circa appunto gli astri i segni e tutto ciò che riguarda il linguaggio astrologico intanto quando parliamo di erbe astrologia magia magia astrologica e medicina astrologica ci dobbiamo rivolgere ovviamente a un periodo specifico che è quello del medioevo e ovviamente della medicina medievale perché è diciamo quella che più di tutti ci dà delle informazioni iniziali da cui partire da cui ragionare e partiamo proprio dal concetto appunto di medicina medievale dove intanto qui scrivo che l'origine della medicina medievale è principalmente legata a due importanti personalità ovvero ippocrate di cosse e galeno di pergamo scrivo poi dalle fonti medievali il capitolo più importante che è fondamento della medicina medievale è senza ombra di dubbio quello della teoria tetra umorale che vedremo tra tra non molto intanto con il nome di ippocrate sono degna sono degni di menzione che cosa i testi due testi diciamo importanti ovvero il corpus ippocraticum che è in un certo senso la principale fonte della medicina medievale ma anche il trattato de natura ominis dove troviamo in particolare la teoria tetra umorale che è stata esposta questa questo trattato de natura da polivo ma che è una teoria che è stata attribuita appunto a una idea di ippocrate e in modo sintetico perché questo è veramente un argomento molto ampio quindi parlare della teoria tetra umorale servirebbe un approfondimento unico molto lungo però insomma da tanto per dare qualche nozione base diciamo che si fondava su un principio su una serie di principi abbastanza semplici abbastanza anche intuitivi ovvero si riteneva che in ogni essere umano vi fossero degli umori ovvero delle sostanze che andavano a decretare la sanità o la malattia di un individuo in base appunto al loro equilibrio questi umori erano sostanzialmente divisi in sangue flegma in bile gialla e in bile nera e questi umori si presentano in uno stato di equilibrio quando c'è uno stato di sanità e di benessere in un individuo mentre la malattia secondo questa teoria insorge quando anche solo uno di questi umori risulta in squilibrio risulta quindi alterato generando una patologia quindi una malattia quindi questo stato di malattia si presenta secondo la teoria tetra umorale quando uno di questi di queste qualità viene in qualche modo distorta o viene posta sotto uno squilibrio per esempio si diceva che quando la il sangue la flegma la bile gialla o la bile nera diventa troppo cruda o troppo cotta c'è un cambiamento della natura e questo cambiamento della natura comporta che cosa comporta una patologia l'emersione di una patologia di una malattia quindi nella medicina medievale lo stato di salute quindi la diagnosi della malattia si basava essenzialmente sull'osservazione degli escreti dei secreti del paziente quale sangue feci il vomito la sudorazione l'urina la saliva il catarro e lo studio e lo studio di questi secreti e l'osservazione quindi macroscopica anche dei sintomi del paziente spingevano il medico poi a formulare una diagnosi e quindi una possibile cura sempre rimanendo nelle nozioni generali della teoria tetra umorale nel medioevo islamico ma anche in quello cristiano si notano varie fonti che in qualche modo mettono in relazione stretta l'evento patologico e il suo significato spirituale cioè c'è una connessione allo spirito più di quanto si pensa già in questa in questa epoca della della vita dell'uomo quindi si ritiene che la malattia non sia solo originata da cause organiche ma anche da cause spirituali ovvero la malattia è anche sintomo di un malessere non solo fisico ma anche spirituale per questo la terapia nel medioevo non era solo basata su una corretta alimentazione secondo appunto i criteri di quel tempo o per esempio da bagni del corpo in acqua fredda o calda oppure utilizzando delle erbe medicinali ma vi erano venivano dati anche dei consigli tra virgolette spirituali cioè per riattivare per riabilitare lo spirito dell'individuo e ci sono proprio fonti che riportano come i consigli di questo tempo nel medioevo erano anche riferiti per esempio a consigli relativi alla pratica sportiva all'attività fisica all'importanza del riposo quindi non c'era solo la cura del sintomo in sé ma c'era veniva anche data un'importanza a livello proprio di spirito individuale quello che oggi è praticato per esempio da quei medici da quelle figure professioniste che hanno un approccio anche olistico nei confronti della malattia cosa che questa è rimasta molto viva ancora oggi come concetto nella nella medicina orientale dove appunto viene dato un grande rilievo al concetto della malattia dove bisogna non solo curare il sintomo ma andare in qualche modo a stabilire anche la radice spirituale possiamo dire inconscia di una di una certa manifestazione appunto patologica le fonti più strettamente astrologiche ci riconducono all'importanza degli astri che se studiati e osservati in un certo modo compartecipano attivamente allo stato di salute o di malattia di una persona in tal senso possiamo veramente citare tanti autori tra cui vi cito forse il più celebre William Lilly che ha dedicato in molte sue attività di astrologo ampi spazi allo studio della malattia all'individuazione della terapia più corretta tramite lo studio proprio della carta di nascita ora senza che entriamo nel dettaglio perché è un argomento molto basso ma c'è una 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 parte una branca dell'astrologia molto ampia e anche molto molto difficile che diciamo prende il nome di astrologia medica dove attraverso una serie di tecniche si studia proprio la malattia l'insorgenza di un male l'eventuale cura l'eventuale fase di guarigione non attenzione come previsione ma come studio della malattia proprio quindi c'erano una serie di tecniche che permettevano per esempio di indicare al paziente quando prendere determinati farmaci in che momento prenderli rispettando per esempio una fase lunare un certo tipo di ciclo della luna un certo tipo di conformazione di disposizione degli astri ecco quindi vedete che appunto nella nella medicina antica c'era anche questa relazione molto forte all'astrologia per per esempio l'individuazione di un farmaco giusto o di come usarlo in modo corretto e in modo giusto già prima qui scrivo del medioevo e durante il medioevo stesso diversi testi ci testimoniano la conoscenza delle proprietà terapeutiche di certe piante ma ci viene testimoniato anche come queste erbe fossero anche a volte da una realtà magica importante e netta una realtà caratterizzata da tecniche precise e da rituali specifici per lo più connessi a quando raccogliere le piante e a come preparare i medicamenti nel rispetto di alcune norme magiche connesse anche diciamo all'osservazione astrologica possiamo dire che la botanica nacque in un'atmosfera esoterica e magica dove l'astrologia offrì una costruttiva speculazione infatti in essa si rintraccia il convincimento della o meglio la la teoria diciamo che dice cosa che gli astri contribuiscono in qualche modo ad imprimere specifiche virtù alle piante questo portò a ritenere alcune erbe dotate non solo di principio curativo per appunto le sostanze in esse presenti ma anche dotate di un principio curativo a causa o grazie a delle virtù astrali celesti presenti in queste piante in accordo alla disposizione degli astri nel cielo vedremo ora come appunto ci sono alcune piante alcune erbe che hanno una relazione molto forte a certi valori celesti ma al di là di questo va detto che la raccolta delle erbe la loro lavorazione la loro trasformazione anche in medicamento veniva eseguito secondo delle procedure ovviamente di diciamo laboratorio di quei tempi ma anche nel rispetto di alcune conformazioni celesti di alcune diciamo disposizioni regole diciamo così astrologiche questo per testimoniare cosa che c'era una forte relazione tra la medicina e anche l'astrologia e in questa relazione evidenziamo sicuramente una traccia magica una traccia esoterica quindi c'era all'interno della pratica diciamo dell'uso delle erbe una forte tradizione esoterica magica basata però su dei principi non di superstizione o di tradizione popolare come vedremo tra non molto per esempio qui vi metto due immagini di due piante di due erbe questa è la bella di giorno ovvero la convolvus arvensis e la bella di notte ovvero la mirabilis qui per comprendere perché si attribuivano proprietà magiche astrali a certe piante ecco queste due piante ci possono venire in soccorso per esempio abbiamo un comportamento di queste due piante interessante perché la bella di giorno è una pianta che ha dei fiori come anche la bella di notte ma ha una particolarità che i fiori della bella di giorno sbocciano al sorgere del sole e si chiudono quindi il fiore si richiude quando il sole sta calando sta andando verso il tramonto mentre nella bella di notte il fiore risulta chiuso durante il giorno il fiore si apre quando il sole sta calando quindi quando c'è il tramonto in un certo senso la bella di giorno apre i suoi fiori durante le ore diurne la bella di notte apre i suoi fiori durante le ore notturne ecco questo esempio che vi ho riportato è per farvi capire come gli astrologi del passato osservavano certi certe erbe certe piante questo comportamento della bella di giorno della bella di notte è un comportamento che poteva portare l'astrologo di un tempo a ritenere per esempio la bella di giorno una pianta e un fiore con proprietà solari mentre la bella di notte una pianta e un fiore con proprietà lunari con virtù lunari questo è appunto per farvi capire il tipo di meccanismo quindi non c'era solo una superstizione che ci poteva anche essere ok ma c'era anche una osservazione di certi fenomeni celesti relazionati a certi fenomeni naturali tipici di alcune piante e questo è un esempio che spero chiarisca appunto il tipo di relazione che poi veniva data tra certe piante e certi astri e certe disposizioni del cielo in questo grafico vi ho fatto l'esempio di un grafico di una carta cosiddetta carta evento carta elettiva dove per esempio apro il grafico per comprendere se è il momento opportuno per raccogliere una certa erba quindi se io so che una certa erba ha delle virtù legate a un pianeta o a un qualche segno posso controllare nel momento in cui intendo raccoglierla se è il momento adeguato per raccogliere le virtù di quella pianta per esempio se ho una pianta che ha una virtù che ne so di del sole e voglio raccogliere questa pianta perché voglio raccogliere le virtù solari di questa pianta e le virtù solari per esempio possono essere virtù calde quindi virtù che riscaldano il cuore per esempio virtù che in qualche modo conferiscono vitalità se assunta quella pianta in un certo modo quindi la dottrina ermetica ci dice l'astrologia medica e la l'astrologia diciamo anche magica ci dice cosa che per raccogliere le virtù di quella pianta virtù solari cioè io so che quella pianta ha una virtù solare per raccogliere questa questa virtù per raccogliere quella pianta con la virtù solare attivata devo raccoglierla nel momento in cui c'è una disposizione degli astri adeguata quindi nel momento in cui per esempio se devo raccogliere una pianta con la virtù solare nel momento in cui il sole è forte per esempio in decima casa come in questo caso nel momento in cui la luna si trova in un aspetto armonico in un segno buono in un segno alla luna favorevole e in aspetto armonico al sole il sole deve trovarsi in una sua dignità quindi in un suo segno favorevole ci deve essere anche una buona relazione con i benefici quindi con giove e venere è una buona disposizione anche di mercurio insomma devo tenere in considerazione una serie di cose in questo caso notiamo che se io volessi raccogliere oggi una pianta dalle virtù solari dove ho un sole in acquario quindi è un sole che è praticamente in esilio è un sole che forma un è un sole poi vicino vedete a a saturno eccolo qua vedete quindi un sole vicino a saturno che è un malefico è abbiamo una luna che sorge però forma degli aspetti insomma dissonanti con molti corpi è una luna anche vicino a marte o marte che sorge quindi ho qui energie molto potenti che non valorizzano la virtù solare anzi la rendono probabilmente irrequieta instabile non così armonica ecco possiamo usare questo tipo di termine non armonica quindi nell'osservazione di questo grafico se fosse un grafico riferito a questo istante potrei dire che non è il momento opportuno per raccogliere da quella pianta x che ha la natura solare non è il momento opportuno per raccogliere questa virtù presente in quella pianta x e quindi potrò esplorare il cielo nei giorni che seguono nelle settimane mesi che seguono per rintracciare il momento più adeguato al fine di raccogliere questa pianta x dalle virtù solari nel momento a cui in cui appunto il sole si trova in una buona condizione per esempio nel caso di piante erbe della natura solare sicuramente un sole in ariete è molto potente perché è un sole nella sua esaltazione quindi se trovo una giornata in cui c'è il sole in ariete in buon rapporto con i benefici giove e venere in una buona relazione con la luna oppure anche se la luna non è in rapporto con il sole una luna che è in un segno buono e in aspetto favorevole a mercurio ecco allora potrei trovare in quell'orario in quel giorno il momento giusto per andare a raccogliere questa pianta dotata di virtù solari la procedura prevedeva però anche altre cose cioè oltre all'osservazione del cielo vari testi ci riportano anche procedure varie fonti ci riportano anche procedure che ci indicano che bisogna raccogliere le erbe anche con un atto diciamo di spiritualità quindi si recitavano delle preghiere degli inni delle parole in un certo senso magiche alcune fonti per esempio riportano le parole magiche che ci tramanda ermete trismegisto per ogni pianeta quindi si potevano usare le parole magiche dei pianeti quindi le parole magiche del sole che ci ha tramandato ermete trismegisto nell'atto nel momento in cui raccolgo quest'erba dalla virtù solare poi ci sono tutta una serie di procedure per la per la preparazione che devono sempre seguire anche diciamo il rispetto l'osservazione del cielo e certe tecniche in un certo senso sacre quindi vedete che c'è un atto rituale quindi nella raccolta delle erbe c'era per alcuni non per tutti c'era però una relazione molto forte a una ad una ritualità ad un approccio ritualistico molto complesso e anche molto difficile da sintetizzare in poche parole qui vi mostro un video con una musica di di sottofondo tanto per comprendere quanto la natura sia potente e in questo ci viene in soccorso il devita di marsiglio vicino dove appunto marsiglio ci tramanda l'importanza della natura non solo delle piante anche delle pietre ma qui stiamo approfondendo in particolare il mondo delle erbe e marsiglio ci dice come nella natura siano in qualche modo concentrate le virtù del cielo e degli astri quindi le piante i fiori gli alberi il comportamento di certe piante le loro qualità hanno una correlazione una simpatia rispetto a certe disposizioni degli astri sapere usare queste virtù saperle cogliere è sicuramente un modo per raccogliere anche le proprietà più buone più belle degli astri e usarle a proprio vantaggio vediamo un attimo questo appunto video e poi andiamo avanti e poi andiamo avanti e poi andiamo avanti e poi andiamo avanti bene il video sta volgendo al termine mentre volge al termine vi dico che marsiglio vicino nel suo devita scrive se vuoi che il tuo corpo il tuo spirito assumano la virtù da qualcuna delle parti del cosmo per esempio dal sole cerca metalli gemme erbe che abbiano il più possibile natura solare e ancor più piante animali e soprattutto uomini perché sicuramente le cose che sono più simili a te possono elargirti più doni queste cose devono essere applicate esternamente e se possibile assunte per via interna specialmente nel giorno nell'ora del sole e quando il sole è dominante nella carta del cielo cose solari sono tutte quelle pietre o fiori chiamati eliotropi in quanto si volgono verso il sole parimenti l'oro e i colori aurei il crisolito il carbonchio la mirra l'incenso l'ambra il balsamo il miele biondo lo zafferano la cannella ma anche il falco il cigno il gallo il coccodrillo così le persone bionde dalla folta dalla folta capigliatura inclini ad essere coraggiosi e magnanimi marsiglio continua dicendo affinché il tuo corpo non resti privo di giove fai esercizi fisici nel giorno e nell'ora di giove quando il pianeta è dominante nella carta del cielo nel frattempo usa come gioviali cose come l'argento il giacinto il topazio il corallo il cristallo lo zaffiro colori verdeggianti il vino lo zucchero il miele bianco coltiva pensieri e sentimenti di natura gioviale quindi pensieri costanti giusti religiosi rispettosi della legge state in compagnia di uomini della stessa natura quindi uomini sanguigni di aspetto gradevole e degni di venerazione ma anche con animali gioviali come l'agnello il pavone il manzo giovane e l'aquila quindi vedete come nel devita che un testo che vi consiglio trovate la traduzione del devita fatta da giacomo albano quindi basta andare su amazon e scrivere devita giacomo albano e trovate proprio questo testo tradotto da giacomo albano che è una lettura molto interessante e in nel devita vediamo come marsiglio ficino sottolinei proprio l'importanza no della relazione tra l'uomo e gli astri ma anche da importanza a cosa l'import alla alla necessità di trovare degli accordi delle simpatie tra l'attività individuale e la natura che ci circonda quindi nella visione di marsiglio ficino gli astri sono ovunque le proprietà degli astri le rintracciamo ovunque attorno a noi da una pietra un'erba ad altre persone come anche al comportamento a certi animali ecco le virtù dei pianeti le virtù del cielo sono in qualche modo riprodotte in ogni in ogni cosa che abbiamo attorno e ripeto può essere questa cosa un'erba può essere un fiore può essere una pietra un animale una persona per esempio ecco questa cosa molto molto interessante no che marsiglio dice se vuoi in qualche modo ricevere le virtù tipo del sole sta insieme a persone bionde perché dice questo proprio perché la persona dai capelli biondi può rievocare una natura solare e in quel e in tal senso diciamo c'è questa questa connessione con le virtù celesti e capiamo che nelle virtù degli astri nelle loro qualità queste virtù le possiamo rintracciare in tutto ciò che ci è attorno in qualsiasi cosa in qualsiasi tipo di oggetto o di attività di cosa animata o inanimata sempre marsiglio ficino dice se temete marte o ponetegli venere se temete saturno usate giove fate in modo di essere continuamente in moto e di evitare la fiacca e che il vostro moto sia l'opposto dei moti esterni che vi stanno segretamente danneggiando e fate in modo di imitare il più possibile l'azione dei cieli cioè qui marsiglio dice cosa che intanto cita marte saturno perché sono i due malefici cioè sono i due astri che diciamo teoricamente nei loro transiti nei loro aspetti possono darci dei danni possono provocarci dei problemi a marte gli opponiamo venere a saturno giove perché questo tipo di di indicazione e qui diciamo viene rievocata molto l'astrologia ad approccio ellenistico la setta la fazione quindi marte venere sono visti come pianeti appartenenti alla setta notturna saturno giove a quella diurna quindi per addolcire marte gli opponiamo il benefico notturno che è venere per addolcire saturno il benefico diurno che è giove e marte saturno vengono visti come malefici perché hanno caratteristiche eccessive marte è eccessivamente caldo e secco saturno è eccessivamente freddo e umido e secco quindi c'è un ci sono due estremi sia in marte che in saturno mentre in venere in giove abbiamo una relazione di umori caratteri addolcita mite più vitale più possibilista che ammorbidisce ecco perché andiamo ad opporre a questi due malefici i due benefici perché riescono con le loro istanze in qualche modo a come dire a dare una una un alleggerimento a certe situazioni eccessive e nette quindi se ho un transito se abbiamo dei transiti ostili secondo appunto queste tradizioni usare oggetti pietre erbe della natura di venere o giove può alleggerire certe energie difficili e acute non solo però l'uso di pietre o erbe anche l'uso di attività quindi visto che prima abbiamo appunto notato che per giove per rievocare le virtù di giove marsiglio officino ci consiglia di fare attività fisica quindi fare per esempio una attività fisica sotto il sole in un bel prato è una attività gioviale ma anche venusiana quindi c'è attività del corpo magnificenza del corpo piacevolezza anche nel fare quel tipo di attività questo tipo di attività umana in qualche modo allontana o in qualche modo compromette gli eccessi che potrebbero esserci di saturno e marte se ci pensate questa non è superstizione non è una non sono leggende perché è quello che ci dicono anche oggi i medici no quindi quando stiamo male stiamo poi nella fase della convalescenza il consiglio è quello di stare all'aperto sotto il sole in un bel in un bel prato a contatto con la natura con gli animali ci viene proprio questo consigliato nella convalescenza ed è una cosa che ancora oggi viene praticata gli stessi lazzaretti che vedremo anche più avanti vengono costruiti erano costruiti ma ancora oggi gli ospedali vengono costruiti nel rispetto di questa norma cioè erano dei luoghi di cura dove questi luoghi erano affiancati da dei parchi da degli spazi verdi proprio perché c'era l'idea che comunque il contatto del malato in fase convalescente con la natura con i raggi del sole aiutasse facesse bene per una guarigione più veloce e completa quindi marsiglio vicino ma la tradizione antica in generale non ci tramanda un qualche cosa di superstizioso ma ci tramanda una osservazione oggettiva che anche oggi pratichiamo nella medicina ovviamente moderna allora sempre qui vediamo un altro passaggio l'importanza del sole e della luna sempre qui vi cito marsiglio vicino il sole per la magia simpatica è vitalità massima che unita a un buon giove e a una buona venere va a costituire le tre grazie citate appunto da marsiglio vicino la luna in particolare in sede non solo di studio delle malattie o della convalescenza ma anche nel caso in cui dobbiamo stabilire il momento più adatto per raccogliere un tipo di erba da cui vogliamo ricavare certe virtù e mercurio rientra nella classificazione delle tre tipologie di spirito allora qui vi cito un altro passaggio rapido cioè intanto vi cito il sole che insieme a giove e venere costituisce quello che marsiglio vicino chiama le tre grazie cioè sole giove e venere sono i tre le tre virtù diciamo le tre energie più buone che possiamo contrapporre a quelle più negative a livello proprio naturale la luna è importante anche per lo studio di del momento più ideale nella preparazione di un galenico o nella raccolta di una erba o nella preparazione di una attività quindi la luna quando è orientata in modo armonico nei confronti delle tre grazie sicuramente è una luna che ci dà molte virtù è importante una una luna ben disposta nel momento in particolare della raccolta delle erbe perché la luna governa lo spirito vegetativo quindi la luna è molto importante per le erbe e per le piante quindi la luna deve essere disposta in un certo modo quando prepariamo un preparato a base di erbe o quando dobbiamo raccogliere delle erbe ma anche in generale per curare il balcone l'orto le piante della nostra casa avere una luna favorevole aiuta sicuramente un certo tipo di raccolto che può poi produrre un buon risultato così anche la semina la semina era 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 eseguita nel rispetto di certe di certi cicli lunari oggi si usa ancora un po' osservare la luna crescente piena calante si è perso però lo studio di questa fase lunare perché una luna anche sia crescente o piena se non si trova però in un segno adeguato e disposta quindi in relazione con gli altri astri in un certo modo teoricamente non produce nulla di buono quindi deve esserci comunque una situazione di equilibrio legato alla luna quando dobbiamo raccogliere delle erbe o fare delle cose connesse allo spirito vegetativo mercurio è importante per le tre tipologie di spirito cioè mercurio intanto abbiamo tre tipologie di spirito che sono spiritus naturalis vitalis animalis quindi in ognuno di noi ci sono questi tre spiriti lo spirito naturale vitale animale ci sono in questo tante altre fonti che parlano anche di spirito vegetativo passionale razionale irrazionale proprio fonti eh fonti antiche su cui eh potrei appunto ritornarci proprio con un approfondimento specifico comunque linea generale lo spiritus naturalis vitalis animalis è presente in ognuno di noi questi tre spiriti dobbiamo capire un certo nostro disagio se è in qualche modo è un disagio che attacca lo spiritus naturalis della natura di giove si attacca lo spiritus vitalis della natura del sole e lo spiritus animalis che è della natura di mercurio mercurio è importante perché rappresenta lo spirito animale che è importante forse uno dei più importanti perché rappresenta le passioni più profonde di ogni individuo e questo spirito è altamente mutabile e variabile rispetto al naturalis e al vitalis quindi è uno spirito molto particolare e quindi è uno spirito che in breve tempo può cambiare quindi eh in un certo senso eh un cambiamento improvviso cioè sto bene ma improvvisamente mi sento male eh potrebbe essere secondo queste fonti connesso ad un'alterazione dello spiritus animalis quindi alle passioni e alle energie passionali animali che cita anche Cornelio Agrippa per capire lo spiritus animalis potremmo dire che è lo spirito della sopravvivenza è la parte animale che è in noi per intenderci la parte animale che è in noi è la parte proprio all'istinto della sopravvivenza questo spirito è il più mutevole è il più soggetto ad alterazioni ed è il più sensibile alle variazioni eh di un ambiente del clima delle situazioni che abbiamo attorno a noi rispetto al naturalis e al vitalis che sono un po' più diciamo stabili la relazione tra astronomia e vegetale ha dato vita alla branca dell'astrologia botanica o fitoastrologia qui ora andiamo un po' brevemente perché voglio introdurvi appunto nel mondo delle erbe e qui diciamo che ehm che ehm che le erbe rappresentano in questo caso ma potremmo fare lo stesso esempio per le pietre però nel caso delle erbe dobbiamo capire che queste erbe hanno eh avuto eh in antichità un ehm un importante capitolo all'interno dell'astrologia e sono state studiate nel loro comportamento anche e nel loro uso in relazione proprio agli astri e all'astrologia diciamo che con l'umanesimo eh la visione eh dell'uomo cambia drasticamente quindi le piante dall'umanesimo in poi cominciano ad essere diciamo private di tutta la componente magica esoterica e anche astrologica oggi devo dire che questa cosa invece sta ritornando in superficie moltissimi naturopati ed erboristi giustamente stanno riprendendo in mano anche nozioni che vengono dal da da fonti molto antiche quindi c'è anche questo ritorno dell'uso delle erbe e di certi prodotti anche in relazione a certi contenuti a certi concetti astrologici quindi c'è un ritorno ad un di un interesse verso questo mondo che sicuramente è molto vasto e va preso va interpretato in relazione ovviamente al nesso storico di appartenenza allora nella concezione antica della filosofia naturale ogni cosa porta in sé il riflesso dell'universo in ogni realtà vivente animata o inanimata è riprodotto l'interezza qui veniamo a una domanda che giustamente viene fatta quando si affrontano questi temi ovvero per quale motivo una pianta dovrebbe avere le virtù di una cosa che sta in cielo ed è lontanissima cioè qual è il principio su cui si basa questa eventuale teoria spiegare questo principio è complesso quindi io cerco di sintetizzarlo intanto riportandovi alcune citazioni in questo caso di firmico materno ma thesis 3 e vi leggo quello che scrive firmico il dio fabbricatore del mondo ha costituito il corpo dell'uomo come quello del mondo con una mescolanza dei quattro elementi fuoco acqua aria terra in modo che la felice combinazione di tutti questi elementi facesse del vivente una bella opera secondo la forma del modello divino e con gli artifici della sua arte creatrice ha così composto l'uomo affinché sotto il vincolo della natura si assemblassero in un piccolo corpo ogni forza ogni sostanza in maniera tale che a quelle potente soffio celeste che discende dallo spirito divino per vivificare il corpo mortale preparasse una dimora simile al mondo allora giuglio firmico materno intanto è stato un astrologo e di età tardo imperiale nato intorno al quarto secolo in questo passaggio che troviamo appunto nel mathesis l'astrologo pone l'accento sulla creazione dell'uomo cioè ricalcando l'idea che ogni cosa poiché proviene da una manifestazione divina o da una volontà divina oppure poiché ogni cosa proviene da una unità originaria che possiamo identificare con il termine di dio ma possiamo anche definirlo come big bang ogni cosa appunto partendo cominciando da questa cosa originaria ogni cosa porta con sé l'immagine del tutto in ogni particella vivente animata o inanimata semplice o complessa vi è la riproduzione dell'universo intero quindi tutto ciò che abbiamo attorno un oggetto un animale una pianta l'uomo stesso ha una relazione alla struttura dell'universo cioè siamo la riproduzione del tutto ogni cosa che manifesta che sotto i nostri occhi riproduce l'universo intero ovviamente bisogna avere la visione cioè la capacità di vedere le cose ma se andiamo ad analizzare le cose attorno a noi la complessità delle loro strutture andando nel microscopico vediamo che ogni cosa riconduce alla complessità dell'universo vediamo la seconda parte di questa citazione di firmico ed è per questa ragione che l'uomo simile a un piccolo mondo è vivificato dalla fiamma e dal corso eterno dei cinque pianeti dal sole e dalla luna così che l'essere vivente che è stato creato a immagine del mondo fosse similmente governato dalla stessa sostanza della divinità il tema della genitura del mondo dichiara e dimostra che quest'uomo è stato formato secondo la natura e l'immagine del mondo ovvero gli stessi principi che dirigono e mantengono il mondo lo sostengono continuamente ci dice firmico in questo passaggio che l'uomo è simile a un piccolo mondo ovvero l'uomo è un universo in miniatura quindi qui c'è il concetto del macrocosmo microcosmo che oggi chiamiamo inconscio collettivo e individuale c'è la teoria dei frattali che oggi è molto usata dalla fisica quantistica insomma c'è veramente un mondo cioè che dovremmo trattare solamente questo argomento per snocciolarlo e approfondirlo perché è veramente ampio ma intanto il principio su cui si basa su cui basiamo su cui basavano anzi gli astrologi antichi la relazione delle erbe con le virtù celessi è proprio questa cioè poiché ogni cosa che manifesta riproduce il tutto vuol dire che anche nella in una in una pianta che è una cosa che è stata manifestata dal tutto c'è una qualità del cielo è riprodotto il tutto è riprodotto un piccolo mondo specifico con specifiche caratteristiche e virtù qui vi riporto una citazione di ermete trismegisto che è riportato da olimpio d'oro in un testo che poi vi consiglierò poi di nuovo nella bibliografia perché è un testo assolutamente importante che vi consiglio di acquistare immediatamente che è la rivelazione di ermete trismegisto cioè volume 1 volume 2 diciamo un testo che presenta una summa molto importante anche di astrologia ermetica anzi fondamentalmente sono due volumi di astrologia ermetica molto importante molto importanti come testi è di di riferimento allora qui vi cito una una cosa che appunto ci tramanda olimpio d'oro che proverrebbe proprio d'ermete trismegisto olimpio d'oro scrive ermete immagina l'uomo come un microcosmo tutto ciò che contiene il macrocosmo anche l'uomo lo contiene il macrocosmo contiene animali terrestri e acquatici così l'uomo a pulci pidocchi e vermi intestinali il macrocosmo a fiumi sorgenti mari l'uomo alle viscere il macrocosmo a animali aerei l'uomo alle zanzare il macrocosmo contiene soffi che scaturiscono dal suo seno per esempio i venti l'uomo alle flatulenze il macrocosmo al sole e la l'uomo ai due occhi e l'occhio destro si riferisce al sole l'occhio sinistro alla luna il macrocosmo a montagne e colline l'uomo alle ossa il macrocosmo al cielo e l'uomo alla testa il macrocosmo ha i 12 segni del cielo e l'uomo anche li contiene dalla testa cioè dalla riete fino ai piedi che sono assimilate ai pesci ecco dunque ciò che si chiama presso gli ermetisti l'immagine del mondo ecco l'immagine del mondo è questa cioè il fatto che in ogni cosa è riprodotto il mondo intero per mondo si intende universo quindi in ogni oggetto in ogni cosa in ogni in ogni cosa che è manifesta poiché è manifesta e quindi poiché è un prodotto della creazione dell'universo in esso è riprodotto il mondo intero ovviamente in questo caso a noi ci interessa più il mondo umano quindi nel caso dell'uomo per esempio vediamo nella teoria della melotesia c'è l'associazione del corpo dell'uomo ai 12 segni zodiacali ecco questa è la rappresentazione più diciamo utile diciamo più semplice per capire la connessione che abbiamo con l'universo intero con le sfere celesti quindi ogni nostro corpo è rappresentato da un segno o sottoposto da un segno quindi quel segno rappresenta quel segno zodiacale rappresenta una porzione del cielo attenzione quindi la porzione dell'eclittica che ne so occupata dalla riete in quella porzione del cielo dove abbiamo delle stelle fisse dove abbiamo una certa qualità delle cose una certa disposizione degli astri abbiamo diciamo una relazione alla testa dell'uomo per una serie di motivazioni anche qui è un argomento molto vasto da affrontare questo della melotesia quindi non lo tratto in questa sede perché sarebbe un capitolo molto ampio e qui entriamo nell'erbario anonimo del quindicesimo secolo finalmente la parte dedicata un po' più alle erbe dove vedremo varie immagini l'erbario anonimo del quindicesimo secolo intanto io ho potuto consultare una copia ovviamente una copia anastatica dell'erbario una copia che fu realizzata mirabilmente dalla cassa di risparmio di Venezia negli anni 80 una ristampa anastatica del codice appunto marciano numero 4758 dove c'era appunto un capitolo dove veniva riprodotto l'erbario del quindicesimo secolo dove abbiamo che cosa l'indicazione di 12 erbe e legate ai 12 segni di 7 erbe legate ai 7 pianeti l'erbario anonimo porta questo titolo della virtù delle 12 erbe sottoposte ai 12 segni del cielo e delle 7 sottoposte ai 7 pianeti quindi vedremo le varie indicazioni che questo erbario anonimo dà rispetto ai 12 segni e ai 7 pianeti faremo delle brevi riflessioni in questo caso è solamente una osservazione di quello che questo anonimo ci ha tramandato in questo in questo piccolo trattato ma molto interessante anche perché riproduce molte ricette per l'uso di queste erbe ora premessa ovviamente molte di queste erbe oggi sono considerate velenose non sono più usate neanche nella erbolisteria quindi bisogna prestare attenzione quindi come già detto in introduzione queste indicazioni che ora seguono sono esclusivamente la la riproduzione di una fonte quindi vi sto portando delle fonti non è che vi sto dicendo come si curano le cose vi sto portando la testimonianza di un manoscritto quindi se vogliamo usare le erbe per uso per uso terapeutico ci dobbiamo rivolgere ad un erborista ad un medico e ad un naturopata quindi quello che segue esclusivamente la riproduzione di una fonte diciamo storica e partiamo dal segno ariete qui vi scrivo giusto per questo segno il tipo di italiano ovviamente volgare salvia salvadega si è la prima erba sottoposta allo segno de aries secondo che macer scrise in suoi libri e sapi che la ditta erba sedie recoire de meco marco per fina meno co a meco d'april qui viene detto cosa che la l'erba dell'ariete è la salvia selvatica anche se questa foto vedete una salvia diciamo un po' più diciamo classica però tutte le salvie anche quelle da orto che abbiamo anche nei nostri vasi sono piante sottoposte al segno ariete qui c'è poi il passaggio relativo al sole cioè bisogna raccoglierla quando il sole è in ariete ecco c'è questa nell'erbario anonimo per ogni erba viene ricordato l'erba del toro va raccolta con il sole in toro l'erba dei gemelli quando il sole è in gemelli quindi c'è questa riproduzione ricorrenza in questo erbario del quindicesimo secolo che ovviamente ha una sua radice antica quindi nella considerazione del fatto che vanno raccolte le erbe in certe disposizioni degli astri qui in questo caso questo anonimo cerca cioè ricorda questa appunto cosa dell'importanza di raccogliere un'erba dedicata all'ariete quando il sole è in ariete qui parliamo di salvia la salvia che vedete appunto nella 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 immagine poi appunto nel trattato ci sono varie indicazioni tra cui vi cito questa chi mangia le foglie di salvia con pane con formaggio oppure con solo pane non soffrirà di cremiti alle mani anzi avrà le mani ferme e salde inoltre la salvia conforta il cuore ed è buona da cuocere con la carne con la salvia il prezzemolo e alcuni grani di pepe si fa una buona salsa questa l'ho provata proprio ho fatto un trito di salvia prezzemolo e qualche grano di pepe e l'ho provato per condire alcuni piatti e devo dire che le spezie appunto hanno sempre una grande capacità di risaltare i gusti di tutti i nostri piatti quindi queste sono le questa è l'erba che è stata associata al segno ariete per quanto riguarda il segno del toro è stata associata la verbena che è una pianta nota è la seconda erba sottoposta al segno del toro perciò si deve raccogliere quando il sole è in toro l'anonimo dice è valida contro gli arrossamenti e di gonfiori degli occhi inoltre questa erba è cicatrizzante per tutte le ferite e piaghe recenti e vecchie ricordo inoltre che la verbena è stata usata anche nella composizione dell'acqua lustrale dai sacerdoti galli per il segno gemelli viene associata l'erba gerobotan ovvero e peristerion è sottoposta al segno dei gemelli il succo di questa erba è utile contro ogni morbo inguaribile specie quello alla bocca detto dai medici moli metangere e contro ulcere della delle braccia e delle gambe questo riporta anonimo allora a giorni nostri questa erba non è riconosciuta in nessun erbario noto secondo gli studi però diciamo c'è di di oscoride che chiama l'erba dei gemelli e gerobotan come sinonimo di berbena e quindi c'è anche un'opera di serapione che indica alla all'erba dei gemelli usa il il nome eiera buntanum e quindi oggi si ritiene che che questa erba legata ai gemelli sia altea officinalis ovvero una pianta che diciamo appartiene alla famiglia della malva e sappiamo bene come la malva oggi è ancora molto usata per curare molte ferite anche quelle fastidiose ferite che si formano in bocca chiamate afte quindi la malva ancora oggi ha una forte un forte uso no e vi cito questa cosa perché i gemelli sono connessi alla bocca nel senso alla parola le afte causano una difficoltà nell'eloquio e quindi i gemelli nel senso come segno curativo possono essere ben associati ad erbe che curano delle ferite nella bocca che ci causano una difficoltà per esempio a parlare nel segno del cancro abbiamo l'associazione della consolida maggiore o le ganego che sottoposta al segno del cancro il succo le sue radici hanno molte virtù con le radici si fa un impiastro che rimargina le piaghe e qui viene data una ricetta che in questo caso vi cito prendi due dramme di cera nuova 12 dramme di midollo di cervo mezza dramma di incenso minuto 3 once di resina di botte 5 dramme di miele bianco 4 dramme di questa radice ben pestata tre dramme di olio di rose riduce a un guento metti sopra le parti predette ecco questa è una tipica ricetta del quindicesimo secolo la dramma è un'antica unità di misura diciamo una dramma sono circa 3,89 grammi mentre l'oncia è un'oncia equivale a circa 30 grammi esattamente a 28,35 grammi nel caso della consolida maggiore ci si riferisce alla symptom officinale questa erba la ritroviamo facilmente lungo i margini della strada nei prati ai limiti dei boschi negli ambienti dove c'è anche un certo grado di umidità qui abbiamo poi un particolare della consolida della consolida dove vediamo vi ho mostrato questa realtà perché la riconoscerete probabilmente quindi se andrete prossimamente a fare una gita in un prato cercatela perché è molto probabile trovarla quindi ha queste foglie così particolari la parte sotto della della foglia la pagina sotto della foglia ha delle nervature molto nette molto secche c'è questo arbusto legnoso grosso queste foglie così che sono lanciolate questi fiori a grappolo quindi è una pianta questa ripeto del segno del cancro che è facile da rintracciare anche nei prati insomma delle delle metropoli no quindi può essere facilmente rintracciabile questa pianta vi dico giusto che era citata anche dal medico romano glaucia vissuto nel 180 avanti cristo e consigliava proprio di applicare questa pianta pestata sulle parti lese del corpo anche sulle lesioni osse quindi era applicata anche con delle vendature nelle zone in cui c'era una frattura e si riteneva che riuscisse in qualche modo ad accelerare i processi di guarigione delle fratture abbiamo poi il segno leone dove viene associato dall'erbario anonimo del quindicesimo secolo il pan porcino il pan porcino che sottoposto al signor leone perciò si deve raccogliere quando il sole è nel leone il succo della sua radice mescolato con miele è molto utile se inalato per far uscire molto catarro dalla cavità nasale e sappi che questa radice è sempre umida ma seccata pestata e mescolata con miele succo di madre selva guarisce in fretta le piaghe delle narici e della bocca consolida i denti malfermi e inoltre cura le piaghe dei testicoli oggi il ciclamino questo è il ciclamino legato al leone è considerata una pianta velenosa ancora ci sono degli usi legati agli oli di ciclamino però insomma è una pianta bisogna prestare attenzione anche alla radice che appunto oggi sappiamo che contiene delle sostanze altamente tossiche al segno vergine è stato associata la nepitella o calamento che è sottoposta appunto al segno vergine perciò si deve raccogliere quando il sole è nella vergine perché se si raccoglie nel tempo giusto dice l'anonimo fa molto bene contro le scottature e si fa in questo modo prendi biacca ruta olio di rose stemperali a modo di un guento con il succo di questa erba questa medicina rimargina mirabilmente tutte le scottature così che non rimangono quasi cicatrici e facilita la formazione di pelle nuova nelle parti uscionate questa pianta io la incontro spesso anche questa nei prati si chiama calaminta nepeta la troviamo nei boschi ma anche appunto nei cigli delle strade dove io vado a fare jogging spesso la incontro proprio in strada in primavera con i suoi fiori quindi è una pianta che troviamo molto frequentemente sui cigli anche delle strade oggi si sa secondo i testi della erboristeria moderna che è una pianta anche con qualità antispasmodiche carminative digestive stimolanti si usano in particolare le parti fiorite e si e si tagliano proprio le parti le parti più tenere ecco di questa pianta possono essere usate sia fresche che secondo sempre i testi di erboristeria però se volete usarla mi raccomando rivolgetevi sempre al vostro erborista qui abbiamo per il segno bilancio il girasole che quando ho letto questa pagina dell'erbario pensavo che ci si riferisce che ci si riferisse al girasole invece no intanto il girasole che è sottoposto al segno bilancia e perciò si deve raccogliere quando il sole è in bilancia cioè da metà settembre fino a metà ottobre qui sono due tipi di girasole uno dei quali si fa uno dei quali fa frutti simili a granelli di uva passa neri e ricchi di virtù medicinali dal succo di questa erba si fanno pillole contro l'idropisia ecco ci si riferisce a questo girasole dotato che fa dei grani molto neri scuri simile a uva passa ecco ci si riferisce non quindi al girasole classico ma al ricinus comunis qui abbiamo il ricino quindi l'erbario dell'anonimo del quindicesimo secolo associa al segno della bilancia il ricino e diciamo che oggi i testi di erboristeria ci dicono come i principi attivi del del ricino sono proprio contenuti in questi semi dove abbiamo appunto questo olio ricco di olio ostearico ricinoleico e palmitico e c'è questa quest'olio che ha delle grandi proprietà appunto anche lassative curative disintossicanti di purificazione quindi attenzione nel ricino in questa pianta c'è nella parte al di sotto del del tegumento diciamo nel fusto c'è in questa parte una sostanza che è considerata appunto che è anzi indicata dai testi di oggi come estremamente velenosa quindi anche in questo caso vedete per l'uso del ricino è ovvio che dobbiamo rivolgerci al nostro erborista che ci darà un ricino sicuro un olio estratto dal ricino assolutamente di qualità qui vediamo l'immagine del ricino chiamato appunto girasolle vedete la prima immagine questa è quella che è riprodotta dal dall'erbario anonimo quindi gli studiosi hanno sono riusciti a risalire a ricinus proprio grazie a questa immagine perché il girasolle faceva proprio pensare al girasole classico invece proprio l'immagine ci fa capire che è il ricinus qui accanto abbiamo il ricinus di un altro erbario quindi abbiamo questa forma che è stellata che può far ricordare un una girandola no e al centro abbiamo questi frutti che sono usati ancora oggi per la produzione di olio di ricino abbiamo poi il segno scorpione al segno scorpione e l'erbario anonimo del 15 secolo parla di matricale matricale che è sottoposta al segno scorpione e perciò si deve raccogliere quando il sole è nello scorpione purché la luna sia piena sia nel segno ariete e orientale sappi che il succo di questa erba mescolato con olio di rose è utile contro le febbre terzane e quartale qui abbiamo insomma la margherita ovvero la camomilla comune che è stata associata proprio al segno scorpione e qui è una delle poche erbe dove l'anonimo si spinge un po di più dando qualche indicazione anche di natura astrologica quindi dice di raccoglierla quando il sole è nello scorpione quando la luna è piena nel segno ariete oppure scorpione ed è orientale ecco c'è proprio delle indicazioni di raccogliere questa camomilla in queste giorni in questo momento preciso per trarne le sue virtù benefiche che appunto quanto dice questo erbario avrebbero anche avrebbe anche delle 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 capacità antipiretiche qui abbiamo il segno del sagittario qui viene indicato il centogallo cioè schiareia che è sottoposta al segno sagittario così si deve raccogliere quando il sole è in sagittario esistono due tipi di centogallo uno è rosso e le sue virtù sono nelle foglie quello che non è rosso che se prendi il suo succo mescolato con miele fuso e lo metti nelle narici ti farà uscire dalla cavità nasale molto catarro quindi abbiamo due centogallo quindi secondo alcuni interpreti qui per centogallo si intende la salpia pratensis ma poiché viene indicata anche una specie rossa altre altri interpreti ritengono che questo erbario associ al segno sagittario anche la stachis officinalis qui abbiamo il segno capricorno l'erbario anonimo lo associa all'apazio acuto cioè romice è un'erba di molte virtù perché se qualcuno si ungerà ungerà con questo unguento o in piastro quando uscirà dal bagno guarirà subito quindi viene data questo tipo di indicazione allora ci si riferisce per l'apazio acuto secondo gli interpreti e non secondo me quindi secondo gli interpreti di questo erbario ci si riferisce al genere rumex dove abbiamo tantissimi tipi di rumex qui vi ho riprodotto l'immagine dell'immagine del rumex venosus del rumex acetosa in particolare di questa pianta è interessante la radice perché è ricchissima di ferro organico e quindi è usato anche questa pianta oggi viene viene usata anche come ricostituente proprio la radice viene trattata e usata anche oggi come ricostituente anche come lassativo come e come tonico queste indicazioni in particolare le ho prese dal grande manuale di erboristeria abbiamo poi il segno dell'acquario alla qui abbiamo una pianta particolarissima è la serpentaria e perciò si deve raccogliere quando il sole è nell'acquario a molte virtù e se qualcuno si unge con il suo succo di questa erba nessun serpente potrà avvicinarli per morderlo ovviamente questa è l'indicazione dell'erbario oggi assolutamente si sconsiglia di toccare questa pianta perché è velenosa è una pianta dove le fonti ci dicono che questo erbario cioè gli interpreti ci dicono che con serpentaria ci si riferisce alla arum maculatum nota anche come pan di biscia il pane della dei serpenti è spontanea nei boschi nei luoghi umbrosi e umidi è una pianta quindi velenosa anche se in antichità veniva utilizzato il rizoma essiccato per eliminare anche i vermi oggi sappiamo che insomma è una pianta abbastanza velenosa ma anche molto curiosa una pianta veramente stravagante perché i suoi frutti emettono calore quindi pare che questa pianta riesca ad accumulare calore e a rilasciarlo quindi a conservarlo e poi a rilasciarlo gradualmente la pianta è velenosa ripeto e anche solo toccata può portare una reazione epidermica una dermatite da contatto perché perché una pianta che produce una sostanza che è l'acido ossalico quindi è diciamo urticante ecco ha inoltre un cattivo odore quindi si ritiene che in antichità si diceva che allontanasse i serpenti perché perché ha questo odore molto molto forte oggi che è appunto cattivo pungente oggi sappiamo invece che è un odore molto amato in particolare dagli insetti su questa pianta ci sono molte curiosità anche legate alla tradizione popolare per esempio in antichità le bacche venivano raccolte fatte essiccare conservate in un in un in un astuccio di stoffa e usato come amuleto quindi si usava questa pianta come amuleto contro qualsiasi tipo di di demone o di forza negativa quindi era usato e conservato in casa o portato addosso come amuleto come amuleto di protezione qui abbiamo l'aristolochia che la chiama in questo modo l'erbario anonimo del quindicesimo secolo e è di due tipi cioè una lunga e una tonda ovvero maschio e femmina questa erba è dotata di molte virtù primo luogo è utile contro l'intero degli occhi e sappi che è calda e secca inoltre la radice bollita nell'acqua il fumo di quest'acqua scaccia via i demoni e rallegra gli animali qui ci ci riferiamo alla aristolochia clematitis e all'aristolochia rotunda la clematitis è la prima quindi quella con il fiore chiaro è la più usata passiamo poi alle virtù dei sette delle sette erbe legate sette pianeti quindi anche qui andiamo velocemente facendo una carrellata riferimento appunto alle sette piante dei sette pianeti sempre indicati da questo erbario anonimo di cui appunto qui vedete la pagina che introduce alle sette erbe poste sotto l'influsso dei sette pianeti cominciamo dal sole allora qui abbiamo la cicorium intibus sole la prima erba è sottoposta al sole ed è chiamata cicoria o radicchio della cicoria che è posta sotto il sole prende il succo e mescolalo con acqua di rose a modo di un guento con questa medicina ungi la parte posteriore del capo servirà a guarire l'infermità detta letargia che fa dormire troppo a lungo e proviene e proviene come appunto malattia dal capo questo è quello che viene indicato dall'erbario anonimo la cicoria secondo molti grimori anche un potere molto forte contro le stregonerie e ci troviamo appunto nel segno della simbologia nella energia solare quindi una energia contro qualsiasi oscurità e magia nera abbiamo poi la luna qui viene associata la peonia quindi la peonia è posta sotto la luna galeno disse che la radice di questa erba guarisce i bambini in preda a crisi epilettiche anche ippocrate disse che la radice risana subito ad opera l'impiastro di peonia per tutte le malattie ma se devi fare impiastri per portare a maturazione o per sciogliere devi raccoglierla quando la luna è crescente invece per consolidare purificare ed assottigliare devi raccoglierla quando è calante ecco qui abbiamo una indicazione anche qui specifica sulla disposizione della luna quindi ci dice no due eh differenti qualità che possiamo trarre dalla peonia se la luna è crescente o se la luna è calante oggi sappiamo però che la peonia è eh usata diciamo in erboristeria ma eh eh è potenzialmente pericolosa potenzialmente tossica esistono degli estratti degli oli oggi a base di peonia usati specialmente nella aromaterapia abbiamo poi Saturno e Giove a Saturno l'erbario dell'anonimo associa eh la eh sempreviva per sempreviva ci si riferisce all'aloe vera a Giove l'anonimo associa il pentadattolo ovvero la pontetilla Reptans quindi abbiamo quei fiorellini gialli che anche questi troviamo spesso nei prati in primavera eh diciamo secondo le interpretazioni una pianta è un fiore di Giove eh l'anonimo indica per la pianta di Saturno virtù capaci di lenire ferite e le fistole il succo avrebbe un potente potere decongestionante per tutte le parti del corpo oggi sappiamo bene come proprio il succo il gel dell'aloe quante proprietà ha curative mentre per la pianta di Giove sono indicati molti rimedi per realizzare colliri per curare piaghe ulcere malattie degli occhi sempre secondo anonimo abbiamo Marte e Venere per Marte è stata data l'indicazione del peucedano scusate la pronuncia ed è posto sotto Marte ovvero parliamo del peucedanum officinale che è il finocchio selvatico mentre per Venere il pentadattolo è posto sotto Venere il pentadattolo è la famosa pianta eh chiamata capelli di Venere ovvero adiantum capillus veneris l'anonimo indica per la pianta di Marte proprietà contro i morsi di animali velenosi mentre per la pianta associata a Venere l'anonimo dice di realizzare dell'acqua distillata con questa erba ovvero un infuso di capelli venere e acqua che indica appunto l'anonimo sarebbe molto utile per sciogliere i calcoli e la renella della vescica così riporta il manoscritto nel caso della adiantum capillus veneris che è interessante è presente come pianta in particolare nelle grotte nelle gallerie nei pozzi nei luoghi sassosi dove c'è molta umidità molta ombra ed è usata ancora oggi per scopi officinali si usa la pianta intera generalmente viene indicata come questa pianta abbia delle virtù molto potenti si è assunta immediatamente fresca quindi già quando viene essiccata perde molto dei suoi principi ora senza che entriamo nei suoi usi è una pianta comunque che rievoca molto la natura di Venere perché Venere è un pianeta dove c'è freddezza e umidità ma non in gradi eccessivi e questa pianta la troviamo proprio in ambienti della natura di Venere dove c'è molta umidità poi c'è mercurio nell'erbario anonimo del quindicesimo secolo mercurio è chiamato viene associato al pianeta il biadono ovvero verbasco e anonimo dice posto sotto mercurio e se ne fa un unguento molto utile ai ai corrieri e ai viandanti dalla radice di questa erba si fa un impiastro che serve a far uscire frecce e spine dalla carne sappi che di questa pianta ne esistono di tre tipi la rossa credo sia proprio quella posta sotto mercurio allora anche qui c'è discordanza non si capisce bene cosa sia il biadono ovvero verbasco intanto è una pianta che che giustamente viene viene indicata da anonimo come utile ai corrieri e viandanti i corrieri e viandanti hanno come significatore proprio mercurio si ritiene comunque che questa pianta sia il la beta vulgaris cioè la bieta insomma è una pianta che anche che anche mangiamo no nelle nostre case però si ritene anche che siccome c'è questa indicazione di anonimo che ci parla proprio di una pianta estremamente rossa ci si potrebbe riferire anche all'amaranthus deflexus cioè alla pianta di amaranto che vedete nella foto sotto quella sopra è la foto della bieta quindi in questo caso non abbiamo la certezza se ci si riferisce alla bieta comune o all'amaranto per mercurio qui vi cito il capitolo 7 libro 3 pica dell'x dove viene citato un personaggio misterioso dal nome a tabari che sarebbe un saggio cioè un qualcuno che non sappiamo chi chi è che ha portato un sapere molto arcaico molto antico sulla magia proprio astrale sulla magia connessa agli astri secondo il picatrix a tabari dice se vorrai comunicare con un pianeta o comunque chiedergli un favore che ti è necessario in primo luogo purifica dinanzi dio la tua volontà e la tua fede e fai particolare attenzione nel non adorare altri idoli quindi purifica il tuo corpo e tuoi vestiti analizza la natura del pianeta al quale la tua richiesta è indirizzata quando sei pronto vestiti con indumenti che abbiano colori o quello con o quelli congruenti in questo modo opererai su fumigazioni appropriate e ti avvarrai delle opportuni orazioni fare tutto ciò quando il pianeta permarrà nella nelle situazioni disposizioni anzidette osservate le quali raggiungerai ciò che ti è riprefissato come scopo in questa frase in questo concetto c'è tutto quello che abbiamo detto fino ad ora cioè anche per ottenere un risultato un qualche cosa desideriamo dobbiamo analizzare il cielo quindi se voglio ottenere una cosa che per esempio è della natura di giove devo operare una suffumigazione nel momento in cui nel cielo giove è messo in un certo modo per esempio un giove in decima casa quindi un giove nella parte alta del del cielo un giove culminante in buon rapporto alla luna con un buon rapporto con gli altri astri in un segno propizio tipo in un domicilio o in una esaltazione ecco in queste condizioni nel momento in cui giove è in qualche modo preposto a dare le sue virtù buone posso operare seguendo una serie di ritualità una purificazione usando vestiti del colore tipo del del pianeta usando una orazione cioè facendo delle preghiere a giove chiedendogli proprio specificatamente cosa desidero facendo poi delle suffumigazioni cioè bruciando delle erbe delle resene che appartengono ad odori della natura di giove tutto questo secondo questi testi cosa crea crea la condizione quella simpatia tra me e il cielo per ottenere le proprietà benefiche di un dato astro e quindi per ottenere un determinato risultato a cui aspiro qui vi cito le varie orazioni che si possono fare per i vari pianeti non vi riporto ovviamente le preghiere che vengono le orazioni che vengono indicate ma giusto vi indico ecco i pianeti per quale tipo di cose venivano diciamo evocati con queste ritualità per esempio vi scrivo se sarai afflitto questo lo scrive il Picatrix se sarai afflitto da dai dolori o dai pensieri gravato dalla malinconia dovrai chiedere di buon grado favori a Saturno fai riferimento a Saturno in quelle preghiere volute da vecchi uomini generosi uomini anziani della città dei sovrani degli eremiti dai coltivatori della terra quindi se devo fare un ricevere una virtù di Saturno per un per un buon raccolto Saturno può essere utile quindi userò un vestiario dei colori di Saturno delle suffumigazioni della natura di Saturno scriverò o reciterò una orazione a Saturno lo pregherò di darmi certe virtù lo dandolo in alcuni suoi aspetti per esempio recitando i nomi magici di Saturno che ci vengono dati da Ermette Trismegisto nel momento in cui Saturno si trova in una condizione in una disposizione del cielo favorevole nel caso di Giove chiedi a Giove ciò che è sotto la sua competenza ossia preghiere degli uomini sublimi di potestà prelati sapienti predicatori della legge giudici bravi uomini interpreti dei sogni eremiti filosofi re loro figli e nipoti preghiere di pace e di mercimonio chiedi a Marte preghiere contro soldati ufficiali contro i combattenti cioè Marte veniva per esempio usato nelle ritualità per esempio per andare in battaglia per vincere dei combattimenti per avere la meglio su un antagonista chiedi a Venere preghiere a favore di donne bambini bambine figli l'amore delle donne l'unione fisica con esse la preghiera di uomini conosciuti cantanti musicisti giocatori viziosi servi mariti madri insomma tutto ciò che concerne Venere abbiamo poi Mercurio avanza preghiere a Mercurio che siano appropriate ai a notai a scrivi a matematici ecco se devo per esempio fare una pubblicazione se devo fare un esame ecco Mercurio potrebbe ci potremmo rivolgere a Mercurio indossando abiti del colore di Mercurio utilizzando degli incensi delle suffumigazioni della natura di Mercurio pregando Mercurio e chiedendo i suoi favori in un momento in cui è in un segno a lui propizio tipo Mercurio in vergine perché in vergine troviamo il suo domicilio e la sua esaltazione in un buon rapporto con la luna in un buon rapporto perché no anche con gli altri gli altri astri che può esserci anche un buon rapporto tra Mercurio e Saturno per un buon esito di un esame ecco che ritorna quanto ho letto prima cioè della necessità di studiare il pianeta per avere il momento più adatto nel fare certe pratiche alla luna domanda ciò che le compete e ciò che è appropriato alla sua natura come le preghiere contro i re gli abitanti di città o di villaggio comandanti messaggeri che percorrono tanto la terra quanto il mare indefessi contadini geometri nobili marinai eccetera al sole manifesta preghiere a lui congrue quali sono quelle rivolte ai re ai figli di militari dei e dei re a uomini di grande valore capaci di amare la giustizia la verità e pregiatori di falsità e violenza spregiatori a coloro che desiderano una bella fama e sperano di essere lodati dagli uomini ecco queste indicazioni ci indicano le questioni le cose che si può che possono avere la natura solare che quindi possono essere in qualche modo richieste in una ritualità connessa al sole la magia in astrologia allora scrivo lo studio degli astri non si limitava solo all'analisi del cielo ma aveva il fine di ricavare dallo studio della disposizione dei pianeti condizioni adeguate per operare attraverso le virtù celeste secondo gli insegnamenti di ermete trismegisto e della magia astrale molto praticata nella tradizione ermetica e anche araba la magia in astrologia non è basata su superstizioni popolari ma su complesse conoscenze ermetiche ed esoteriche allora l'astrologia potrebbe avere una origine dalla caldea e anche da babilonia attraverso il sacerdote per esempio berosso e lo pseudo zorastro sappiamo che dalla babilonia l'astrologia è stata trasmessa poi ai greci quindi l'astrologia penetrò anche in egitto quindi entrò anche nel mondo egizio probabilmente quando quando quest'area fu poi sottoposta al dominio persiano e ci sono molte fonti che attestano come l'astrologia sia stata in particolare in egitto praticata nei tempi nei tempi quindi dai sacerdoti che compivano delle proprio delle vere e proprie arti divinatorie basate anche sulla data di nascita questo ce lo riporta erodoto ma qui per dirvi che anche la magia in astrologia non era una magia superstiziosa o folcloristica o popolare era basata proprio sullo studio delle qualità naturali quindi era una magia simpatetica naturale dove c'era lo studio della scienza della natura delle virtù delle piante degli astri della loro luce quindi non era una magia praticata su diciamo su cose superstiziose o su credenze ma effettivamente su prima di tutto delle osservazioni oggettive di tipo astronomico dello studio della luce sicuramente poi c'era anche una parte di diciamo esoterismo popolare o di superstizioni certo però c'era anche una forte componente culturale all'interno della magia applicata appunto in ambito astrologico e qui vi cito erodoto perché troviamo in erodoto libro 2 verso il verso 82 1 2 ci dice appunto erodoto questa fonte ci testimonia una cosa importante vela vela leggo allora erodoto libro 2 verso 82 ed ecco alcune scoperte degli egiziani a quale divinità sia sacro ogni mese ed ogni giorno e l'arte di stabilire secondo il giorno della nascita quali saranno gli avvenimenti di ciascuno la sua vita e la sua fine scoperta di cui hanno fatto uso gli elleni che hanno coltivato la poesia hanno scoperto gli egiziani un maggior numero di presaggi di tutti gli altri uomini quando ha luogo un prodigio essi osservano e mettono per iscritto ciò che avviene dopo e se si ripete qualcosa qualche cosa che ricordi questo prodigio ritengono che gli avvenimenti seguenti saranno analoghi cioè ci testimonia che in egitto c'era un'osservazione dei prodigi astronomici e astrologici tra virgolette quasi scientifica cioè se una determinata disposizione produceva per due tre volte una stessa cosa gli egizi dicevano indicavano che quella disposizione significava questo questo e quest'altra cosa quindi c'era veramente un'applicazione degli egizi negli confronti della astrologia molto importante ed erodoto quindi ci dà una testimonianza che contraddice molte altre fonti che ritengono che in egitto non ci fosse una astrologia come l'abbiamo poi avuta nel mondo greco in realtà gran parte delle nozioni dell'astrologia egizia sono state anche prese dalla dai greci quindi c'è comunque anche nell'approccio egizio una una astrologia complessa di studio di osservazione secondo quindi le testimonianze di erodoto i sacerdoti egiziani tanto prevedevano il futuro in particolare basavano questa predizione sullo studio dei 32 decani che se anche non esiste alcuna fonte che lo dice in modo inequivocabile per logica è molto probabile che questi 32 decani provengano proprio dalla cultura egizia perché perché 32 decani sono intanto 32 immagini per farvi capire in modo semplice 32 immagini associate ai 12 segni zodiacali ovvero ogni segno è composto da tre immagini astrali precise tutte queste immagini raccontano ciclicamente perpetuamente un viaggio eterno diciamo della vita della della creazione delle opere di dio e degli dei e delle loro creature perché dico che i decani sono probabilmente di origine egizia perché l'anno egiziano è diviso in 36 in 36 decadi alle quali appunto presiedevano i padroni del tempo ovvero queste immagini decane che rievocano potenze divine quindi questi 32 decani erano i padroni del tempo del calendario egizio e descrivevano degli eventi che avvengono durante un anno eventi in particolare stagionali legati quindi alla agricoltura agli allevamenti al mantenimento della ricchezza del popolo della società alle attività politiche alle attività dei faraoni quindi c'è comunque questa connessione molto forte ai 32 decani questi decani quindi hanno anche un potere magico o meglio possono dare all'astrologo sapiente informazioni sulle virtù delle cose e possono quindi orientare il mago delle operazioni magiche che devono avere l'accordo del cielo affinché possano funzionare e quindi in questo contesto magico astrologico viene come al solito viene introdotto sempre ermete trismegisto che a tutti gli effetti a mio giudizio il vero padre dell'astrologia il nematesis firmico materno che è un astrologo del quarto secolo dichiara di aver trascritto tutto ciò che ermete e anubis città proprio anubis hanno rivelato ad asclepio tutto ciò che petosiris e necepso hanno esposto in dettaglio tutto ciò che hanno prodotto abramo orfeo critodemo e altri uomini esperti in astrologia quindi in firmico c'è intanto l'evocazione di ermete trismegisto ma anche di anubis di abramo e orfeo cioè vedete abbiamo diverse diversi tra virgolette profeti che in qualche modo trasmettono l'astrologia tolomeo va inoltre a fare una grande sintesi anche delle di tutte le tradizioni astrologiche nel suo celebre tetra biblos ma in generale quello che voglio dire che la testimonianza che ci dà anche firmico come erodato e erodoto è che che cosa che l'astrologia ha un sapere complesso articolato di cui noi conosciamo giusto la punta di questa di questa conoscenza un frammento che è insignificante perché tutta la parte nascosta dell'astrologia che ancora oggi rimane nascosta è proprio la parte esoterica ed ermetica dove c'è un sapere segreto e ancestrale che è difficile da comprendere in tempi brevi perché serve uno studio molto lungo e articolato e le fonti non sempre sono complete ma dove comunque possiamo rintracciare il perché delle cose cioè il perché oggi arriviamo a dire che un pianeta ha un certo tipo di carattere per delle virtù che provengono da quell'astrologia ermetica esoterica profonda legata quindi molto alla natura delle cose nello stesso picatex vi sono insomma varie trascrizioni vi cito il il de virtute verborum ma altri passaggi numerosi altri il de possibili abbiamo cioè delle varie indicazioni delle varie spiegazioni dove la magia legata all'astrologia assume i concetti che ritroviamo per esempio nella magia anche un po più contemporanea per esempio crowley quando dice che la magia è un atto legato alla alla propria volontà cioè la magia è la capacità di realizzare la propria autenticità e volontà non dice un qualche cosa di nuovo ma dice un qualche cosa che è già citato per esempio nei testi nel quello che vengono nelle fonti che vengono riportate dal picatrix dove appunto nel picatrix si dice che la pratica magica non è una pratica superstiziosa è una pratica in cui si deve mettere in accordo la volontà del praticante con quel con la volontà celeste ecco anche nel mondo antico scrivo la magia è considerata accordo tra volontà e cielo attraverso cui compiere l'opera e servirsi delle virtù celesti per vivere al meglio o in simpatia con gli ecosistemi e l'esistenza quindi qui capiamo in questa cosa cosa voglio dire voglio dire che la magia che troviamo nella nei testi antichi di astrologia è vero che può sembrare anche molto un'astrologia molto popolare perché usa gli unguenti le le erbe però se andiamo nella radice profonda di queste tecniche non è altro che una magia tecnologica cioè una tecnologia vera e propria cioè attraverso la volontà capendo quello che io voglio capendo quello che voglio ottenere attraverso poi la conoscenza delle virtù delle cose celesti e delle cose che sono in terra io riesco a costruire a costruire una tecnologia che mi permette di ottenere ciò che desidero attraverso una ritualità attraverso un atto magico e l'atto magico in sé non è che è una cosa magica nel senso voglio una certa cosa e mi piove dal cielo significa in qualche modo attivare la nostra volontà creatrice attraverso un atto ritualizzato che mi porterà a concretizzare quello che voglio se veramente quello che voglio è quello che sento è quello che mi appartiene per autenticità per esempio in tal senso vi cito una breve un breve concetto che viene che viene portato da sempre dal picatrix tipo su saturno il picatrix dice che saturno opera in ciò che riguarda i campi i fiumi in ciò che attiene ai contadini alle controversie alle fatiche se è diretto da significato alle parole veridiche alla speranza agli edifici alla paura ai grandi pensieri all'eloquio alla scienza di ciò che rimane celato se il suo moto è retrogrado dice il picatrix riuscirà a ottenere quanto si è preposto ma con molte molestie e con molta miseria e con grandi fatiche se retrogrado ma in una delle sue dignità cagionerà l'accrescimento ma funesto delle proprie prerogative quindi vedete viene indicato proprio intanto la funzione di saturno ma anche una funzione astronomica cioè per ottenere una determinata cosa dobbiamo sapere anche delle cose astronomiche che appartengono ad una sapienza elevata quindi non opererò con un saturno retrogrado se voglio ottenere le virtù buone di saturno opererò con un saturno in un segno a lui buono tipo ad un suo domicilio ben relazionato con la luna o con altri aspetti in un tema per esempio che potrebbe essere diurno cioè nelle ore di giorno perché saturno è migliore quando è quando siamo nelle ore diurne ecco questo per farvi capire come anche lo studio poi dell'astronomia permetteva in antichità di costruire delle vere e proprie ritualità che erano in pratica delle tecnologie complessissime per esempio in questa slide vi scrivo quello che viene detto su giove da pica del libro 3 capitolo 7 da significato giove a ciò che è compiuto con sottigliezza ai corpi degli animali alle imprese agli aumenti di animali ai giudizi retti all'amabilità e alle e alla perequazione in tutte le cose al sentimento alla mansuetudine ai detti veridici alla verità alla buona credenza alla fedeltà alla castità all'onore alla gratitudine alla giusta sensualità all'intelletto alla pace all'aiuto degli uomini al buon servizio alla decenza nel vestire da altresì significato a quegli uomini che amano il bene cercando di evitare il male quindi qui vi sto introducendo che cosa la magia ermetica la magia ermetica che è connessa anche alla complessa al complesso scibile astrologico e astronomico è un inizio un primo contributo una prima traccia perché è un argomento veramente complesso che in qualche modo ci porterà quindi in futuri approfondimenti che vi presenterò più in là proprio l'approfondimento della magia ermetica con sempre il portare delle fonti quindi a me piace sempre partire da delle fonti su cui ragionare non tanto per andare poi a praticare queste cose perché potrebbe anche non avere più senso oggi per molti di noi praticare queste cose no però anche per comprendere quanto il fenomeno astrologico sia complesso sia articolato ci sia molte ci siano molte cose che oggi non ricordiamo più o non riportiamo più in superficie personalmente per esempio vi do la testimonianza diretta dell'uso di queste fonti o le uso in senso teorico cioè la parte della magia ermetica legata ai pianeti ai segni alle cose astrologiche la approfondisco per conoscere le sfumature dei pianeti e dei segni quindi per sapere qualcosa di più di questi astri di questi alfabeti per comprenderne anche una natura più nascosta più sotterranea che ci può dare delle intuizioni in più su certi astri su certi segni concludo questo questo lungo approfondimento concludo con la bibliografia quindi vi inserisco i testi che sono stati usati allora tra questi test insomma ve li leggo inizio dal secondo per poi darvi darvi delle indicazioni più dettagliate sul primo una mia personale considerazione intanto vi in questo questo approfondimento è stato realizzato grazie a fonti come il picatrix deradis la summa della magia ermetica attraverso la mediazione araba etito da mimesis poi ho consultato anche una tesi di laurea che è pubblica di marco sterri pubblicata dal comune terralba discussa presso l'università degli studi di cagliari facoltà di studi umanistici dell'anno 2013-2014 dove il dottore sterri ha proprio raccolto una serie di informazioni sulla medicina medievale con una serie di fonti a e qui non ve l'ho appunto riportato perché è una tesi che proprio ho letto come interesse culturale e in questa tesi c'è proprio nella parte finale il ricercatore ha raccolto una meriade di di ricette che venivano usate in antichità che ci fanno ben capire come era gestita e vissuta la medicina in quei tempi in quelle epoche e quanto ci fosse una commissione sia di nozioni ovviamente scientifiche ma anche molto di magia quindi molte preparazioni erano molto assoggettate da un sapere anche antico magico ho citato poi ho consultato anche ecco gli erbari medievali tra scienza e simbolo che è un testo della officina di studi medievali poi ho consultato il medioevo latino sempre un testo del centro italiano di studi sull'alto medioevo ho consultato sfogliato l'erbarium abitum in orto medico sapienze romane del 1700 volume 2 erasmus di erasmus abbondanzia poi ho consultato il trattato esoterico di astrologia ermetica che è un libro anche liber ermetis è un libro trattato pratico di erboristeria di rosaria musumeci molto molto ben fatto per chi vuole anche un po' approfondire gli argomenti legati alle virtù delle erbe poi c'è un bel libro che vi consiglio che è erboristeria planetaria di ferdinando alaimo e grande manuale di erboristeria di michael tierra che è un importante manuale di riferimento appunto in ambito erboristico sul primo testo che vi cito ora e che consiglio a tutti di acquistare per chi vuole approfondire l'astrologia ermetica allora le rivelazioni di ermete trismegisto volume 1 e 2 edito da mimesis sono due testi interessantissimi perché l'autore ha raccolto tutte le fonti e le indicazioni di ermete trismegisto e non solo e ci porta una visione dell'astrologia complessissima dall'astrologia ellenica a quella che c'è prima e a quella che c'è stata dopo quindi c'è tutto un escursus in questi due volumi molto importante direi che queste sono le due i due testi cioè le rivelazioni di ermete trismegisto volume 1 volume 2 sono a mio giudizio i due testi due bibbie importanti di che bisogna prendere per comprendere che bisogna prendere e studiare per iniziare a capire a comprendere un minimo il fenomeno astrologico la complessità delle fonti e delle tante informazioni questi due volumi editi da mimesis sono riportate moltissimi esempi moltissime indicazioni citazioni di ermete trismegisto sui pianeti sui segni su certe cose astrologiche che aprono la mente dell'appassionato di astrologia in questo caso sono due volumi che io orienterei più per i praticanti per chi studia già astrologia una buona base che sono due testi comunque difficili però apre una mente la mente su delle tematiche che sono rimaste sotterranee cioè la l'astrologia ermetica e l'approccio ermetico dell'astrologia è una sorta di iceberg dove c'è la punta che è fuori l'acqua fuori dal dall'acqua e visibile che è la parte che conosciamo tutti segni aspetti grafico cose un po' più diciamo commerciali poi c'è tutto il corpo dell'iceberg che è nascosto sotto a sotto l'acqua e quella parte è la soggermetica dove c'è veramente un sapere immenso veramente articolato dove c'è tantissima roba su cui riflettere da riesplorare cose che non sono scadute nel tempo perché sono di estrema attualità e che ci spiegano tante cose del perché certi astri certi segni certe energie vengono definite in un certo modo quindi vi consiglio sicuramente le rivelazioni di ermet trismegisto volume 1 volume 2 edito da mimesis allora questo lungo approfondimento che ho voluto fare il registrato perché durante questa registrazione ho fatto varie pause perché è un argomento lungo lo troverete ovviamente disponibile sul canale design astrology ritornerò prossimamente con altri approfondimenti andando avanti sul concetto della magia ermetica ovviamente applicata sempre al linguaggio astrologico vi ringrazio per l'attenzione e ci vedremo nel prossimo appuntamento un caro saluto a tutti voi a presto grazie a tutti